che cosa fai oggi oppure studiare il studio e lezioni brava e dico che tu faccia i compiti e questo da tutti però tu che vuoi facciate i compiti bene professore dare sempre molti compiti per casa come diventa come scrivo da l'italiano è difficile ma noi ce la faremo grazie